Non sia possibile una normità, un appalto da 13 o 15 milioni di euro affidata direttamente senza che nessuno venga in mente di aprire un fascicolo, di aprire un'indagine semplicemente per violazione delle norme sugli appalto. Per noi è una cosa che in Sicilia succede per molto meno, ma subito, prima ancora che intervengono le norme antinari. Invece qua sembrava normale affidare direttamente un appalto di questo genere. Allora se questo era normale è evidente che c'era un sistema che tutto questo favoriva e lo coltivava. Per favorire ci vogliono produzione di massimo di rete, si deve controllare, si portava dall'altra parte, magari non so, poi scopriamo che faceva delle buone carriere.